Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto in Italia, la tragica notizia è appena arrivata. E' morta una figura molto importante per il nostro paese. Ma di chi stiamo parlando? Addio a Sergio Staino, è morto oggi il papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità. Staino aveva 83 anni, era malato da tempo ed è deceduto stamattina in ospedale dove era ricoverato da qualche giorno, a Firenze. E' morto oggi, in ospedale a Firenze, Sergio Staino. Giornalista, vignettista, disegnatore, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità. Aveva 83 anni, era ricoverato da qualche giorno, ma era malato da tempo. Il Corriere della Sera ha pubblicato un ricordo. Antonio Carioti scrive. Ci mancherà molto Bobo, antieroe ingenuo e pasticcione di una sinistra disposta a prendere in giro se stessa. Il suo creatore Sergio Staino è scomparso oggi all'età di 83 anni. Lasciando un grande vuoto nel mondo della satira e il ricordo di tanti sorrisi, a volte anche Belle Risate, che era riuscito a strappare con le sue strisce e vignette in oltre 40 anni di attività. Grazie.